Questa mostra ripercorre un po' tutta la mia produzione di quadri di barche d'epoca classiche e anche di vele latine spesso, addirittura dei dinghi ho fatto seguendo il loro circuito nazionale e i dinghi 12 piedi classici, rivedendole, ritrovandole nelle vari raduni che si sono tenuti nel Tirreno e quindi non so, ho seguito delle plegate Imperia a Gaeta, a Napoli, a Viareggio, a San Vincenzo, i dinghi e perfino sul lago alcuni e a Gallipoli invece il festival internazionale dei Godzi e delle vele latine di cui laggiù ci sono due esemplari che ho dipinto Grazie a tutti!